Somministrava alcolici a minori di 16 anni e per il titolare di un bar del centro a retino adesso è così scattata la denuncia. Tutto era partito circa un mese fa dalla segnalazione di un genitore di una ragazzina di 14 anni che si era rivolto alla polizia municipale per segnalare che la figlia era tornata a casa mostrando sintomi evidenti di ebrezza dovuti a sostanze alcoliche. Era quindi partita l'attività di indagine da parte della sezione di polizia giudiziaria della municipale ed è così emerso che alcune ragazze, tutte tra i 14 e i 15 anni, durante un fine settimana erano state in un bar del centro ed avevano consumato bevande alcoliche. Il barista non aveva chiesto loro alcun documento per verificarne l'età. L'uomo che materialmente ha servito alle ragazzine i drink è stato individuato e denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a minori.